Ciao a tutti, io sono Rimondas, il fratello di Linus e io sono la sorella Rasa. Linus purtroppo alcuni mesi fa è venuto a mancare e è stata una cosa completamente inaspettata, assurda, la quale comunque anche noi effettivamente non riusciamo ancora a realizzare. Poco sarà il suo compleanno, il 4 ottobre. Abbiamo deciso di organizzare una manifestazione sportiva in suo onore. Si svolgerà in due giornate, il 30 settembre sarà una passeggiata cicloturistica rivolta a tutti, bambini, adulti. È un motivo in più per stare tutti insieme, sorridere e continuare a ricordarcelo per la persona solare splendida che era, perché anche lui avrebbe comunque voluto vederci sempre insieme e voleva sempre aiutare il prossimo. Quindi speriamo di riunirci in tanti e passare una bella giornata insieme. Mentre invece la seconda giornata sarà rivolta alla categoria direttante di Thunder 23 e sarà una vera e propria competizione. Ovviamente per poter svolgere questo evento sono necessari dei fondi e quindi noi ci rivolgiamo a voi con l'intento di poter avere un aiuto, un aiuto che contribuisca a rendere effettivo questo evento, a ricordarci Linas, la persona che era e continuare a ricordarlo negli anni che verranno e non dimenticarlo mai. Quindi vi ringraziamo per averci ascoltato e vi invitiamo all'evento e speriamo possiate contribuire alla manifestazione. Speriamo di riunirci tutti insieme in quei giorni.